Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Poniamo ora in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Cozzolino, D'Ambrosio. Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Ci siamo? Stella Bianchi, rotta. Altri? Tripiedi. Grillo. Moretto. E dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'articolo 4, su cui ci sono tre emendamenti. Chiedo al relatore di dare i pareri a nome della Commissione. E prego al relatore di minoranza, se intende dare i pareri di raggiungere il Comitato dei Nove. Prego. 4.1. Favorevole. 4.2 Colletti. Contrario. 4.601. Favorevole. Della Commissione, in versione corretta, favorevole. Onorevole Colletti. 4.1. Mi rimetto all'Aula. Grazie. Grazie. Grazie.